La Spagna a Palermo, quattro giorni intensi tra cultura, musica e spettacolo. La Spagna a Palermo è un ulteriore conferma della internazionalizzazione della nostra città, della importanza dei rapporti con gli altri paesi, soprattutto i paesi del Mediterraneo e anche un richiamo alla tanta importanza che ha avuto la Spagna nella storia della Sicilia, la tanta importanza che ha la Sicilia nella storia della Spagna e un'occasione per incentivare il turismo, quel turismo che peraltro si fa proprio all'impegno di due compagnie aeree spagnole che sono Volote e Vueling che volano con voli diretti su Palermo e credo che sia la conferma che ormai Palermo è diventata una straordinaria città turistica, bella l'ho sempre stato, adesso è anche turistica. Tutto partirà domani pomeriggio da Piazza Massimo? Tutto partirà domani pomeriggio da Piazza Massimo, però si snoderà ovviamente coinvolgendo il centro storico della città e coinvolgendo tutta la realtà palermitana che sicuramente trarrà vantaggi enormi da questa attenzione spagnola e presenza spagnola a Palermo, ma sarà anche un modo per far conoscere la realtà spagnola ai palermitani e siciliani. Carlos Hernández, consigliere al turismo dell'ambasciata di Spagna in Italia, è qua a Palermo con una manifestazione davvero importante, quattro giorni dedicati alla Spagna e alle sue regioni. Siamo assolutamente orgogliosi, siamo assolutamente felici di essere a Palermo, è da un tempo che la Spagna mancava qua, una presenza intensa, una presenza al livello del nostro legame, della nostra amicizia e credo che già mancava e siamo contentissimi di essere a Palermo per questa manifestazione e per un po' coindividere le novità, coindividere un po' parte del nostro territorio con questo territorio magnifico italiano. Quattro giorni che partiranno da domani, ma ci indichi qualche evento di particolare appetibilità? Abbiamo tantissimi, forse tantissimi per accomodare a tutti i palermitani e a tutti i siciliani che hanno la voglia di vederci. Inizialmente abbiamo una esposizione in Piazza Verdi dove ci saranno tutte le mostre di tutte le regioni spagnole che ci accompagnano, dalla Galizia, dalle Valleari, Ibiza, dalle Gran Canaria, da Madrid, Catalogna, Aragona, Andaluzia, spero non lasciare nessuno. E dopo avremo tante manifestazioni, in piazza avremo anche in un palcoscenico, avremo manifestazioni musicali e anche partecipazione di diversi enti. avremo anche la possibilità di portare a qualche ragazzo di licei, scuole eccetera e mostreremo un po' in questo momento due particolarità del folklore spagnolo, dal nord, del folklore celtico della Galizia e questo non può essere d'altra maniera, porteremo anche un po' di flamengo in piazza. Quindi l'Andaluzia. L'Andaluzia, sì, il flamenco in piazza. Dopo avremo due esposizioni fotografiche, una nel Cervantes, un'altra su Palermo e nel museo in Palermo. Quindi quattro giorni a non perdere. Sì, abbiamo una manifestazione gastronomica, dopo abbiamo una manifestazione lirica, dopo anche abbiamo dopo uno spettacolo, per chiudiamo con uno spettacolo di flamenco in un teatro palermitano. Grazie. 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 Grazie.